ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questa pagina di art journal che ho fatto per il mio quaderno dei progetti di cui avete visto sul mio canale tutte le altre pagine io praticamente realizzo queste pagine per dividere il mio quaderno in varie sezioni questa nello specifico è la pagina di oggi ve la faccio vedere da vicino diciamo che è nata perché ho visto questo timbro stamperia di papaveri mi è subito piaciuto e ho deciso di utilizzarlo in qualche modo e questo è quello che è venuto fuori diciamo da dalla mia idea di papaveri anche il timbri o il resto degli stessi sono di stamperia ma lo vedrete poi mentre realizzo il video e detto questo non ci resta che partire con con la realizzazione del progetto di oggi non ci resta che partire con la realizzazione 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 anche il lavoro di oggi è terminato anche il lavoro di oggi è terminato non ci resta che partire con la realizzazione 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 Ciao!